RANDEVU CONTRO BORUSIA Il palo lontano è terminato sotto Giuseppe Mura pronto alla battuta della punizione A distanza siderale Ma col destro Simo No anzi L'estremo difensore del Borussia Scarano e non Simoni In angolo Ancora Mura potrebbe disarciolare il destro E qui Nel cercare il gol di Teco Marco Pizu Anziché fare le cose facili Palla sul fondo Punizione per il rendezvous Posizione interessante Lichardot sul punto di battuta Dentro Traversa Reazione providenziale quella di Edoardo Camba Qui scivola sfortunato Mauro Locci Allora Lorenzo Camba Situazione di 1 contro 3 Palla dentro per Cruz E' uscito Serrao Porta vuota il salvataggio clavoroso E poi ancora strepitoso Lichardot Sto attenzione al contropiede del Borussia Lorenzo Camba limiterà la destro Serrao 18 minuti giocati 1 a 0 per il Borussia Angolo battuto dalla formazione Angelo Nero allo stacco Serrao Su Camba Ora Mauro Locci Ancora Marco Pizu Destro Centimetri Ha un soffio dal palo sinistro Questa volta Scarano era battuto Angelo Nero 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 Camba Si libera benissimo Destro Serrao Che non ha nulla da invidiare L'estremo difensore avversario Cruz Scodella Serrao Facile facile Ora può partire il contropiede Si fa perdire del rendezvous Che mette un uomo in più davanti alla porta Servito Mauro Locci Ha pareggiato il rendezvous Quando siamo al ventitresimo del primo tempo 1 a 1 Rendezvous che stava spingendo Per arrivare all'1 a 1 Che quindi è meritato Finisce il primo tempo 1 a 1 Con leggere polemiche del Borussia Ricciardo per Marco Piso Destro Non ci arriva Mura Finizione per il Borussia Con il salvataggio Di Ricciardo Che però Applaude Serrao E quindi forse il tocco ultimo È stato del portiere Rimessa battuta da Simoni Campo di testa La palla che sfiora Il palo sinistro Rocca che prova a rimettere in mezzo Ci riesce in qualche modo Dolorenzo Camba Potrebbe anche passare al tiro Lo effettua Serrao Grande intervento di Francesco Serrao A tenere l'1 a 1 Allone scodellato Camba di testa La palla rimane lì No anzi questo Camba Che se Facceva questo gol davvero Cimauro Locci Che vuole l'ingresso In area di rigore Dentro Scarano In controtempo In calcio d'angolo Una sfida vostruosa Tra i due migliori portieri Della Champions Cup Open Pisano E qui la gioca Campo Palla dentro Porta vuoto Palla Non è fritta Cosa si è divorato Il Borussia Cagliari Là dentro Occasionissima Per il Rand con Marco Pisu Occhio qui Mamma Serrao Mamma Serrao Su Dejana Mura che attacca La sinistra Si accentra Dentro Mamma Serrao Mamma Serrao Anzi Scarano Non Serrao Situazione di 3 contro 1 Dejana Dentro Glomoroso Cosa si è mangiato Lorenzo Camba Cosa si è mangiato Ma valla Verrà La miniatura Versari Ci riesce Si continua a giocare Cruz Mancino A centimetri dal Palo destro Sono io Andiamo un attimo Si continua a giocare Locci Su un errore Bonaler Mamma mia Scarano Ancora una volta Su Mura Questa volta Sembra la fase Mura Il fondo In diagonale Non c'è tempo Non c'è tempo Calci di rigore Per decretare La seconda finalista Rocca col mancino Contro Serrao Vai Serrao La fiora Non basta Il Borussia In vantaggio Bomber Giuseppe Mura Estro Precisissimo Scarano A terra dall'altra parte 2-2 Tocca a Khao Mancino Colisarro Bola a sua destra Neutralizza Il secondo rigore Del Borussia Di Benedetto Contro Scarano Vai Omi Benedetto Destro Palo interno Si rimane in parità Terzo rigore Per il Borussia Pisano Un destro Ecco la conclusione Precisa Sotto lì Crocio Anche se Serrao Aveva intuito Lo ci contro Scarano Spiazzato Scarano Borussia Con il mancino Con il mancino di Corruzio Che spiazza Serrao Per la prima volta 4-3 Borussia Cerdo Un destro Finta la potenza E va di precisione 4-4 Era destro Di Camba Spiazzato Serrao 5-4 Borussia Marco Pisu Grandissima partita La sua Ma non è una novità Pisu Col destro Centrale Col brivido 5-5 Si fa oltranza Per cui Simoni Col mancino Mamma che brivido Questo Per il Borussia Palla dentro Dopo il tocco Della traversa 6-5 Ruben Piras Col destro Sotto l'incrocio Di una precisione Clamorosa Ruben Piras Destro Di Dejana Spiazzato Serrao Il rigore Violentissimo Pisu Pisu va Spiazzato Scarano Si continua Qui si va verso Luna di notte 7-7 Alessandro Pisu Sono destro Conclusione Mamma Esattamente Tra le braccia Di Serrao Andrà col mancino Traversa Il Borussia È in finalissima Dopo aver vinto La Selle Lega dei Campioni Open A L'anno scorso Adesso prova Ad andare All'assalto Della Cempio È Della Cempio 夜 Do Mi ? Anda Di Hermann Ass Ev A warming Della